in quest'artoro episodio questi capelloni i chan contro i chan fai i versi fai i stella ize no veramente devo mangiare un e-fresh quando c'è alle 14 e 21 abbiamo esattamente qualche mangiateci minuti come cazzo si chiama Dragon Ball Abridged è bellissimo, tu non te lo vuoi vedere è lo sdoppiaggio americano è fatto di un bene pazzino lo faremo anche rieditano, rifanno le sigle è fatto benissimo ogni personaggio è portato all'estremo delle sue caratteristiche psicologiche Non lo farlo Non lo farlo 3, 2, 1 Oh Yatta 3, 2, 1 Secondo me lui se si gira la prende più facilmente Per esperienza Non dico, dai dietro Allora Prima esperienza in Giappone La prima volta che lo prendi in cura Come si sente? Si sente Si sente un pochino Sono abituato a cose un pochino più grandi Ma essere cilieci è un problema Quando lo prendi È quello che mangiano No Allora bisogna stare attenti quando vengono Quindi bisogna capire bene che cosa hanno mangiato prima Che è importante questa cosa Quindi bisogna stare attenti a quello che mangiano Che è importante questa cosa In base a quello che mangiano Se mangiano tanta pasta, la pizza È un problema, capito? Che poi entrando dentro Mi sento poi diversa Questo lo tagliamo oppure Ma si può vedere Dove lo mettiamo? Mi chan Mi chan Si Si Mi chan Mi chan È una tolla Mi chan La mia pastigua È una tinta Si Mi chan È una età Questa Mi chan Mi mus practices Mi 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 No, 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 no. No, 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 no. Cosa? Они chiamano SiSS IJ VU DAT MAKERG от GELWI MAKERG Cosa oltre come se veda Si, grazie con un fotografo Sì, 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 è un film che mi ha visto in Instagram Ti ricordi quando si è andato a casa del King nel garage Mentre lo aspettavi ti sei arrampicato sul palo E poi lei si è andato addosso da sopra il garage Ah, feticisto da cara Mastro, Mastro Chi si è un un amore Hai un amore Ha visto molto niente Inse né? Niente Niente Che è il nostro amore E Satria Logo non è molto vero L'Italia No è un'altro L'unica Namekseji. Nanda testi? Tipo le chiamarike sono. Ho scoperto il modo peggiore dei modi. Trovandolo vicino sotto il letto. Namekseji? Quanti ho? Musi poi. Ah! Mukade. Name va? Mukade. Non. Namekseji. Le chiamarike sono, le chiamarike senza gusto. Ah, namekseji? Namekseji. E se ci pensi piccola c'è queste cose antennine? No, non è il papo. No, la chiamarike sarebbe il... la chiamarike? Eh, forse il dialetto mio. Comunque sono le lumache senza gusto. Ahhhh. Mi chiamiamo solo con Dragonbornofanda credo. Ora c'è un po' di macerone. C'era così il mio? Ah, hai chiamato il mio. Sì, ok. Io lo vedi. Il bagno è il loro logo. Te vai dritto, puoi girare qua e là e lo trovi. Ah, a destra. Ah, qui. Ah, c'è un skyro? Cotto! Un skyro? Cosa vuoi? Non vuoi? Ah, Simo. Non devi cagare. Simo. Devi fare la numero due? No, la numero due se no sopra. No, no. La numero due se no sopra. Sti capelloni. Eh, oddio. Se disse se li... Se li piassero i capelli. C'è? 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 Ico, Ico. Ico, 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 Ico. Ico, Ico. Icchan. Ico, 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 Ico. Si�. Adi! si 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 è piaciuto non sta piuendo andiamo andiamo a chiamci la giungere ah bisogna essere con lei e no, non ci preoccupate, voi dovete prendere lo treno fa 4 minuti Allora se voi correte ce la fate Andiamo Ti spiego la strada? Ci arrivi un attimo Guarda, vai qui Questa fa la curva sempre dritto Arrivi al Mc Donald e sei arrivato Si segui la strada e fa la curva da solo Mc Donald sinistra e sei arrivato Se corri ci arrivi in due minuti Io non posso correre Bello! Se non te muovi lo perdi però Bye bye In questo punto Bidu, usare una canzone Nascita la canzone Non, non, non Non, non, non Non, non, non Non, non, non Non, 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 non Non, non, non Non, non Non, non Ma si è più facile Ma è italiano sono italiani tutti sono italiani quindi sempre sono l'interno l'interno è l'interno è l'interno è l'interno è l'interno ciao ciao nella prossima puntata è Don Quixote dove rendono tutto ciò che non ti serve l'incontro l'unico e se lo trova davanti a tutti attraversando il famoso incrocio di Shibuya attraversando il famoso... dove sta? io a Firenze ci vengo ben volentieri e parli così poi come